Alla politica si dicono sempre gli stessi luoghi comuni alla fine della fiera, siamo un paese clientelare, siamo un paese strutturato a stato sociale, dove c'è un grande dragaggio fiscale e una pessima redistribuzione del medesimo. Il governo italiano, come molti governi nel mondo, è governato da altri tre governi, noi nello specifico dalla finanza internazionale, dai multinazionali, dagli Stati Uniti e dal Vaticano, quindi contiamo ben poco. No, però non sia così ottimista, però non sia così ottimista, ogni tanto dica anche delle cose cute. Però questo è quanto, insomma, però puoi girare come ti pare. Unioni civili, come la pensa lei? Ah, sicuramente. Questa legge? Dunque, la legge credo si stia cavalcando in una maniera molto partigiana, ognuno si racconta frammenti della legge per trovare appigli per la propria navigazione politica. Io credo che i diritti civili debbano essere per tutti i medesimi, che non mi sono mai posto il tema dell'omosessualità nella mia vita, anche quando me lo hanno chiesto, ho detto che non ci ho mai pensato, come non ho mai pensato se fosse giusto o sbagliato che ci debbano essere due molecole d'ossigeno nell'acqua. E quanto ai figli? Non ci penso, è una cosa naturale. Appartiene all'arcobaleno della vita, che ne dice? Wow! Quanto ai figli, credo che i figli, se possono vivere in una famiglia fatta da padre e madre, che siano due donne o due uomini, o un uomo e una donna, cambi poco, sempre meglio che con sette su ore, insomma, secondo me. Grazie. Grazie. Grazie.